I lavori sulla strada Flaminia e in particolare sul tratto della Contessa sono improcrastinabili, ma Regione Marche e ANAS hanno lavorato nell'ultima settimana per trovare un punto di incontro che attenui disagi. Punto di convergenza conciliato nell'accordo con ANAS che porterà a completare i lavori entronatale anziché nei 15-18 mesi inizialmente previsti. ANAS intensificherà i lavori con doppi turni frequenti su un'arteria strategica per i comuni e le attività che si sono riunite ieri nella sede di Confcommercio Marche Nord che per prima aveva suonato il campanello d'allarme alla Regione. Con ANAS in una sola settimana, quella che è appena trascorso, abbiamo gestito le complessità. Le complessità di un'arteria fondamentale come la Flaminia e il passo della Contessa verso l'Umbria, verso Gubbio e quindi verso le 45, verso Roma in maniera molto attenta e puntuale. Per questo ringrazio ANAS perché ha dato risposta concreta a tutto il pacchetto di richieste presentate dalla Regione Marche. Oggi ne darà contezza all'associazione di categoria e ai sindaci del territorio. Qui sicuramente c'era stato un difetto di comunicazione, non si era ritenuto dal lato Umbro dove avverranno i lavori, importante questa arteria per la nostra Regione. Invece per la Regione Marche questa arteria è fondamentale, tanto che nel masterplan delle infrastrutture stradali approvato più di un anno fa dalla nostra Giunta, per la Regione Marche quell'arteria è considerata un cardine fondamentale della maglia stradale marchigiana. ANAS lo ha capito subito con i suoi vertici e nazionali, oggi è qui proprio per questo. L'investimento complessivo dell'intervento è di circa 6 milioni di euro. Un intervento complesso che prevede la demolizione e il rifacimento dell'imparicato del ponte denominato via 8 della Contessa, contraendo le lavorazioni con migliorie tecnologiche e con l'incremento dei turni di lavoro, riusciamo a contenere i tempi di programma lavori restituendo la percorribilità prima del prossimo Natale. Quindi prima di Natale l'arteria tornerà fruibile per i marchigiani, non dovremo aspettare più di 12 mesi per utilizzare quel tratto stradale, considerando che il viadotto da tutte le accertamenti e le analisi tecniche condotte da ANAS è risultato che la classe d'attenzione su quel viadotto lungo circa 190-200 metri è alta. Tematica viabilità e rischio isolamento particolarmente sentiti da un'importante fetta di territorio provinciale. In Confcommercio ieri sera erano infatti presenti in gran numero sindaci, vertici di associazioni di categoria e delle aziende di trasporti. La chiusura della Contessa è un dramma per le imprese della nostra provincia, particolarmente per Fano, Marotta ma per tutta la Vallata, tutta la Via Flaminia insomma, tutta la Vallata del Metauro, tant'è che sono tutti i sindaci della Vallata presenti a questo nostro incontro. Poi ovviamente tentiamo di salvare il salvabile e quindi anche di non far chiudere la Contessa in questi giorni, perché questo era previsto, di almeno posticipare la chiusura dopo le festività pasquali, se questo fosse possibile, per salvare almeno le festività delle nostre imprese turistiche e della ristorazione. ANAS nell'occasione ha misurato anche le tempistiche della viabilità alternativa in questo 2023. Ci sono due percorsi, uno che allunga di 10-15 minuti il tempo di percorrenza e vale per i veicoli leggeri, invece per i veicoli pesanti l'allungamento è superiore, intorno ai 25-30 minuti e porterà il traffico sulla Tre Flaminia.